Sospeso Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, ecco perché e quando torna in onda. Come mai Pomeriggio 5 non sta in onda su Canale 5? Ecco la verità sul programma. Perché Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso non sta andando in onda su Canale 5? È questa la domanda, che si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori della trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Curiosi di sapere il motivo per il caole da questa settimana al posto di Pomeriggio 5 vengono trasmessi dei film in prima visione assoluta. Che fine ha fatto l'appuntamento con il talk show quotidiano della D'Urso? Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito. La verità sulla sospensione di Pomeriggio 5 iniziamo subito col dirvi che la sospensione di Pomeriggio 5 è dovuta alla sosta natalizia, che tutti i programmi del Biscione, compresi quelli di Barbara D'Urso, osserveranno durante questo periodo di feste. La pausa per Pomeriggio 5 è cominciata lunedì, 18 dicembre, cos, come è successo con Mattino 5 di Federica Panicucci, situazione diversa, invece, per Uomini e Donne di Maria De Filippi, che aveva ancora un po' di puntate da smaltire e quindi andrà avanti fino al prossimo 22 dicembre, quando poi comincerà anche per il dating show della De Filippi il periodo di pausa natalizia. Una sosta, che ha in parte deluso gli spettatori abituali di Pomeriggio 5, i quali speravano di poter vedere non dalla loro amata Barbara D'Urso anche durante questa settimana, che precede il Natale, ma come vi dicevamo caos, non è stato? La rete, infatti, ha deciso di non programmare neppure il meglio di questa stagione del talk show e ha lasciato spazio direttamente a dei film natalizi, che stanno ottenendo una media del 13% di circa e in questo modo lasciano via libera al programma La vita in diretta su RaiU. Quando ritorna in tv Barbara D'Urso? Ecco la data ufficiale per rivedere in onda Pomeriggio 5 in televisione bisognerà attendere il prossimo luglio, 8 gennaio 2018, è questa la data scelta per la messa in onda delle nuove puntate del talk show di Barbara D'Urso, che in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, dove ha parlato del successo delle sue trasmissioni del Pomeriggio. Un successo, che ormai viene consolidato di anno in anno, visto che sia Pomeriggio 5 che Domenica Live sono leader indiscussi della propria fascia oraria con una media del 18-20%. Quest'anno, poi, la D'Urso ha registrato il suo record assoluto con il programma della Domenica, che è arrivato a toccare quota 5 milioni di spettatori con uno share del 25%, numeri da prima serata, che hanno reso Barbara Regina indiscussa del pomeriggio festivo di Canale 5. Grazie a tutti.